Il punto C con Ciro 3 e 6 C'è una serie di episodi arbitrali che ancora gridano vendetta mentre Paolo mi viene in mente il mane di Bernardeschi a Cagliari per esempio però stamattina ci siamo svegliati con le scuse anzi con il racconto delle scuse di Sarri a Cristian Maggio quando l'ha incontrato a Coverciano lo ricorderemo tutti Cristian Maggio non ebbe l'onore meritato di fare l'ultima a quello che una volta si chiamava San Paolo davanti ai propri tifosi in quel Napoli-Crotone che finì 2-1 per il Napoli e poi ci sono anche Sarri fa sempre rumore quando parla non è mai un uomo da 0-0 c'è il passaggio su Conte a metà tra la stima e la provocazione quando ha detto che Conte è bravo perché fa spendere i presidenti si fa accompagnare i calciatori nel mondo del calcio tra allenatore e allenatore è un complimento però c'è anche quella sottile provocazione parliamo di un allenatore che a gennaio di quell'anno voleva un vice Cagliacone e non l'ha avuto che a gennaio di quell'anno ebbe come acquisti Milic e Mashash oppure a gennaio nel primo anno nella stagione di fuoco di Gonzalo Eguain gli arrivarono Grassi e Regini come rinforzi del mercato di gennaio di uno dei primi Napoli che lottava seriamente per lo scudetto però i livelli, le qualità, le caratteristiche degli allenatori riguardano anche questo riguardano la capacità di incidere, di imporre il proprio pensiero di parlare chiaro col presidente e dire io vengo a ricostruire il Napoli però tu fai il mercato che devi fare prendi Lukaku 93 a 31 milioni di euro circa prendi McTominay, prendi Gilmour dando finalmente al Napoli il vice Lobotka Spalletti ha vinto lo scudetto senza il vice Lobotka perché Demme di fatto non c'era non era un giocatore pronto, abituato non aveva continuità di gamba non ha mai recuperato al 100% sotto il profilo dello smalto, del ritmo dopo quell'infortunio in Napoli-Provercelli a Di Maro e quindi ci siamo svegliati con questo pensiero che poi ci riporta all'attualità a quello che è il mantra di Antonio Conte Amma Faticà lo slogan con cui ha iniziato la sua avventura e che trova conferma anche nella sosta che ormai volge al termine le partite delle nazionali sono finite ieri le ultime la Georgia ha vinto un'altra gara 1-0 contro l'Albania di un altro ex pensando a Sarri quello è il sedi Usai e la Georgia ne ha vinta un'altra dopo quella con la Repubblica cieca quindi l'impatto di Quaraskelia fa crescere anche il calcio georgiano non è l'unico talento penso a Mamadarcivili il portiere che ora è di proprietà del Liverpool anche se il Liverpool lo accoglierà l'anno prossimo nelle parti di Anfield e quindi ormai siamo soltanto attendendo siamo soltanto attendendo l'arrivo di tutti i giocatori impegnati in nazionale l'ultimo sarà Anghissa che ieri ha affrontato lo Zimbabwe è finito a 0-0 non una gran partita per lui è stato anche ammonito e una sosta in cui Conte riflette e lavora oggi doppia seduta se vogliamo calcolare anche il lavoro a parte di Mario Rui l'unico messo ai margini è tripla la seduta perché se vogliamo contare anche quel lavoro individuale svolto per lui doppia seduta come anche altre squadre la Juventus di Acomotta per esempio qualche doppia seduta la sta facendo pensando a uno dei prossimi avversari il primo big match del Napoli sarà quello a Torino contro la Juve la prima volta che Antonio Conte tornerà a Torino da avversario con il pubblico sugli spalti perché finora era capitato solo in epoca Covid ai tempi dell'Inter con lo stadio a porte giuste e nonostante ciò ci furono polemiche su tutto il dito medio di Conte ad Agnelli in una partita di Coppa Italia quindi figuriamoci cosa potrà accadere con lo stadio carico di passione di entusiasmo perché a Torino con Tiago Motta hanno ritrovato l'entusiasmo e hanno anche recuperato i rapporti con la tifoseria che negli ultimi anni erano un po' deteriorati ma tornando a ciò che ci interessa di più al Napoli sosta di riflessione primi allenamenti per McTominay e Gilmour McTominay soprattutto scalpita riduce da due golli in nazionale e avrà almeno un paio di allenamenti in più anche qual forse considerando i ritmi di Conte anche un po' in più di Anghissà e prova a strappare spazio perché è difficile che Conte cambi sistemi di gioco già a Cagliari penso che sarà un processo lento graduale che potrebbe avere chissà a Torino un impatto importante considerando i vari impegni programmatici anche la Coppa Italia contro il Palermo forse un'occasione perfetta per sperimentare e dare spazio ai tanti uomini di questo organico perché il Napoli è un organico importante basta pensare quanti ne ha in attacco Politano Nere Shingong Quaraschelia Raspadori Lukaku Simeone tanti che poi devi trovare gli spazi devi tenerli sul pezzo per fare in modo che poi accada la cosa più importante che c'è nel calcio che siano pronti quando vengono chiamati in causa Napoli lo Scudetto l'ha vinto così ricordatevi il contributo di Raspadori di Simeone anche di giocatori penso a Gianluca Caetano che fece quel liscio fondamentale nella gara contro lo Spezia poi quando fu chiamato in causa diede il suo contributo per esempio il gol con l'Inter a Scudetto già vinto è importantissimo avere tutti sul pezzo fa parte del lavoro di Antonio Conte che sicuramente si concentrerà su questo aspetto durante la sosta cercando di avere il gruppo la forza del gruppo sempre dalla sua parte che è il grande lavoro che ha fatto già finora perché la partita col Parma l'intensità con questa da vissuta la festa finale la partecipazione di tutti dalla panchina dimostrano che questo lavoro che è il primo passo è stato fatto poi c'è da correggere tanto sotto l'aspetto tattico sotto l'aspetto delle imbucate prese centralmente degli spazi che si aprono di quel pendolo del centrocampo che va a pressare e che fa quella che gli allenatori chiamano ricomposizione dietro la linea della palla farlo nei tempi giusti è fondamentale a Cagliari qualche folata ci sarà recupera anche Zortea che sicuramente potrebbe essere una soluzione a destra e il Napoli dovrà essere pronto a imporre la qualità che ha e avere attenzione attenzione nelle distanze nella tenuta del campo nel leggere certe situazioni probabilmente ci sarà Gianluca Caetano dal primo minuto anche lui ha parlato in questi giorni ai canali social del Cagliari dando importanza giusta a questo trasferimento che per lui è fondamentale è il primo club in cui va a titolo definitivo dopo la lunga esperienza a Napoli che è partita da quando aveva 13 anni ed è arrivata fino allo scudetto vissuto da campione d'Italia quindi sarà un avversario in più che il Napoli dovrà affrontare la carica dell'ex che vorrà mettersi in mostra dimostrare che forse a Napoli un po' di spazio poteva averlo anche lui ma ormai è il passato lui ha fatto questa scelta è una scelta di crescita che gli potrà dare più minutaggio lo potrà far sentire un giocatore importante il Napoli ce ne ha tanti di giocatori importanti Conte avrà il gruppo al completo lo attende tra oggi e domani pronto a preparare nel migliore dei modi questo rientro in campo a Cagliari domenica ore 18 ne parleremo tutti i giorni a Radio Napoli Centrale alle 13 alle 15 e in questo approfondimento quotidiano il punto C di Ciro Troise che vi accompagnerà fino al calcio d'inizio di Cagliari Napoli il punto C con Ciro Troise di Ciro Troise di Ciro Troise